Analizzando la partita credo che non è difficile analizzarla, allora il pari è giusto, secondo me alla fine il pari è giusto, loro hanno avuto quell'occasione importante della traversa, noi forse di clamorose così no, però gli ultimi dieci minuti davamo la sensazione di poter vincere la gara, dove abbiamo avuto comunque quell'occasione di bacio terracino, era il limite dell'aria se non dentro, se prende la porta, il colpo in testa di Foggia, e due o tre situazioni dove anche un inserimento se si butta dentro, Fagioli fa gol a portavolta che è passata tutta quella palla lì così, con la loro traversa, il primo tempo è stato, ma anche il secondo, partita molto tattica, partita molto maschia, molti contrasti, molti falli a spezzettare il gioco e diciamo che il risultato è giusto. Noi abbiamo avuto delle difficoltà perché lo sapevo ma non immaginavo che quando noi avevamo la palla subito sulla costruzione loro, tanto in tanti giocatori sotto la linea della palla, non è facile trovare gli spazi, non è semplice, perché poi potevamo rischiare delle ripartenze con Costantino e Giasi, ma gli attaccanti, a parte, ci sta, però c'era un fallo clamoroso su Barbuti quando sono ripartiti per quella traversa, l'abbiamo veramente, insomma siamo stati molto bravi con i difensori a non dargli a loro grandi opportunità. E in tre minuti ho pensato subito a mille cose, subito da fare e allora la mia scelta era quella di mettere un difensore, di mantenere un risultato positivo e cercare nel secondo tempo di essere più offensivi. E se avete visto ci ho provato perché al 32esimo forse, subito giù di là, ho tolto un centrocampista, ho messo un attaccante come Fagioli e quindi abbiamo fatto il 3-4-3 cercando di... e siamo stati abbastanza pericolosi, non in modo eccessivo, però qualche grattacapo gliel'abbiamo creato, ma non è bastato. Ho visto che loro erano un po' in difficoltà fisica, invece noi stavamo bene, volevo cercare di rompere questo loro muro, l'hanno retto bene, ecco queste partite le decidono le palle inattive o la giocata dei singoli, così non è stato, però guardate, sette risultati positivi utili, è vero, su questi ci sono poche vittorie, però muovi la classifica, un campionato che è vero, anche in casa bisogna fare anche di più, ma non è semplice, lo posso garantire, avete visto che squadra era il su Tirol, invece è squadra importante, insomma penso a tutto, penso che un punticino l'abbiamo guadagnato dietro, visto i risultati e allora andiamo avanti con questa positività. Era importante sapendo loro di concedere poco e siamo stati molto bravi, era una strategia la mia, cercare di mantenere inviolata la nostra porta e pensare che gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, potevamo essere in difficoltà, è stato così, adesso è vero che Fratangelo finora ha mai giocato come su mare poco, però sarebbero state due armi, Fratangelo era un'arma che io, credetemi, già da giovedì a quando si è fatto male avevo mezza idea, non magari di farlo entrare titolare, di giocare titolare, ma sta bene, si vede, oltre il gol sta bene, è un'arma che l'ho potuto sfruttare, come è su mare, quei giocatori che in queste squadre sono molto arroccate dietro con l'uno contro l'uno, con la velocità, potevano a trovare delle soluzioni maggiori, però sono soddisfatto, contento, è logico che c'è mancata quella giocata del singolo, però quando purtroppo non puoi vincere non devi perdere, ecco, banale ma è la verità.